Quindi diamo il benvenuto alla nostra super Federica che sappiamo essere un'assistente fantastica che ci aiuta ad entrare in Zoom, a rinominare i nostri dispositivi e adesso in questo appuntamento ci darà anche la possibilità di conoscere in dettaglio o meglio di conoscere di più come gli oli essenziali e gli integratori a base di oli essenziali possono diventare parte integrante del benessere di cane e gatto. Quindi per me è stata veramente una sorpresa dare una sbirciatina a quelle che sono le slide di questa sera e non vedo l'ora Fede che tu possa condividere con noi questa tua immensa conoscenza sull'utilizzo dell'aromaterapia per cane e gatto. Cosa ci dici? Grazie, grazie Cristina, che bella presentazione e buonasera a tutte ragazze, anzi a tutti perché c'è anche il socio, non discriminiamo. Allora sì, diciamo che queste slide, queste mie Zoom sono proprio il frutto dei miei studi, quindi dei corsi che faccio, degli approfondimenti, dei libri che leggo, quindi ovviamente non è che io così mi sveglio la mattina e dico vabbè oggi diamo questo al cane, diamo questo al gatto, ovviamente ci sono la base degli studi, anche perché io lo dico sempre, non sono un medico, non sono una veterinaria, quindi assolutamente non voglio sostituirmi a questa figura, questo è importante dirlo. E stasera vi voglio parlare appunto dell'integrazione naturale per i nostri amici al quattro zampe. La mia conoscenza al momento si ferma diciamo al cane e al gatto, però gli oli essenziali si possono utilizzare in tutto il mondo animale, quindi su tutte le specie animali, però per il momento diciamo che la mia conoscenza è legata al mondo dei cani e dei gatti, poi magari più avanti, perché no? Inizierò a studiare magari anche gli oli essenziali applicati ai conili, ai cavalli, perché comunque insomma è veramente un mondo, un mondo a parte molto ampio, ma si scoprono tante cose interessanti, tante cose belle e poi gli animali sono veramente delle creature speciali. E quindi questa integrazione naturale a base di oli essenziali. In genere quando parliamo di integrazione è sempre riferita all'integrazione alimentare, quindi quei prodotti che prendiamo per integrare quelle sostanze che magari con l'alimentazione il nostro organismo non riesce ad acquisire. Questa sera parliamo di integrazione naturale, anche alimentare, però non solo. Perché? Perché ci sono quegli oli essenziali che noi possiamo utilizzare quotidianamente, quindi tutti i giorni, per aiutare i nostri amici ai quattro zampe, diciamo per supportare, più che per aiutare, per supportare il loro benessere. Perché è anche diciamo una forma di prevenzione. Quindi diciamo che l'integrazione è un significato un po' più ampio. L'altra volta ho parlato del pronto soccorso naturale, non so se avete visto tutta la registrazione, potete andare a rivederla sul canale di Cristina, sul canale YouTube di Cristina, e ho parlato del pronto soccorso naturale. Quindi diciamo quella, proprio la classica cassettina del pronto soccorso dove in genere si tengono tutti i farmaci, noi ci teniamo gli oli essenziali, che però vengono utilizzati più che altro all'occorrenza. Quindi nel momento che il nostro animale ha una problematica, possiamo utilizzare questi strumenti naturali. Quindi si graffia, gli viene il mal di pancia, gli viene una dermatite. In questo caso invece è proprio un utilizzo quotidiano, un utilizzo giornaliero. E perché è importante l'integrazione? Perché serve a prevenire l'insorgenza di patologie, aiuta a guarire nel caso in cui fosse già presente una patologia, contrasta i processi di invecchiamento e quindi a mantenere in salute le cellule. Nonostante costituisca un'ottima aggiunta alla routine, non deve però sostituire uno stile di vita sano in un'alimentazione varia ed equilibrata. Questo io lo dico sempre perché è alla base lo stile di vita nostro, anche quello del nostro animale. vivere in un ambiente sano, fare attività fisica del movimento, soprattutto per i cani, è importante fare del movimento. La socializzazione, la passeggiata all'aria aperta, quindi parte tutto comunque da uno stile di vita abbastanza sano, il più possibile, insomma, e anche da un'alimentazione varia ed equilibrata. Per quanto riguarda appunto gli integratori alimentari, come dicevo prima, hanno quel ruolo, hanno il ruolo di fornire quelle sostanze nutritive essenziali che nella maggior parte dei casi non sono garantiti dagli elementi presenti in commercio oppure da un'alimentazione casalinga. perché anche se l'alimentazione casalinga quindi è un pochettino più equilibrata, un pochettino più sana rispetto a quella commerciale, per alimentazione commerciale si intende la scatoletta di umido oppure i croccantini, comunque anche l'alimentazione casalinga non dà tutte quelle sostanze nutritive essenziali all'organismo. Quindi l'integrazione è importantissima. Prima però di andare ad utilizzare gli oli essenziali, e questo è, anche questa è una cosa che io ripeto sempre, non mi stancherò mai di ripetere, magari diventerò anche un po' noiosa, però è veramente di fondamentale importanza, anche quando divulghiamo l'utilizzo degli oli essenziali. È proprio la prima cosa da tenere in considerazione, ancora prima di iniziare ad utilizzare l'olio essenziale, sia su di noi che sui nostri animali, è l'importanza della purezza dell'olio essenziale. Perché? Perché se l'olio essenziale non è puro, il nostro organismo e quello dei nostri animali lo assorbe, assorbe l'impurità. La cooperativa che fornisce questi oli essenziali che utilizziamo noi, che è Duterra, garantisce questa purezza, perché questi oli essenziali sono certificati CPTG, cioè di alto grado di purezza certificato e testato. Va ad escludere la presenza di contaminanti all'interno dell'olio. Purtroppo in commercio la maggior parte degli oli essenziali non sono puri, sono diluiti, sono contaminati, sono adulterati, addirittura tanti sono prodotti in laboratorio, quindi sono sintetici. Quindi nel momento che il nostro organismo e quello dei nostri animali introduce degli oli essenziali e questi raggiungono ogni cellula, noi introduciamo e facciamo assorbire all'organismo tutte queste sostanze che, passatemi il termine, direi schifezze, che potrebbe contenere un oli essenziale non puro. e invece di fare del bene, quindi invece di apportare dei benefici, possiamo anche provocare dei danni. Quindi è proprio la prima cosa che dobbiamo guardare quando iniziamo ad utilizzare gli oli essenziali, questo rimedio naturale, che siano assolutamente puri. sia che li utilizziamo olfattivamente, sia che li utilizziamo topicamente e anche internamente. Perché se anche olfattivamente pensiamo che vabbè ma tanto li annusiamo e basta, no, perché gli oli essenziali anche annusati raggiungono comunque tutte le cellule del nostro organismo. Quindi io questa cosa la sottolineo sempre, sempre, sempre. È di vitale importanza. Quindi facciamo un accenno agli integratori alimentari. Qui come vedete c'è questo Lifelong Vitality Pack. Non so se tutti voi già lo conoscono. è, diciamo, una confezione che contiene tre integratori. E perché ho scelto la confezione? Anche per una questione economica. Perché si possono tranquillamente ordinare anche separati. Ma costano veramente molto di più. Cioè, do terra, ci dà la possibilità anche di risparmiare ordinandoli insieme. E dato che li andiamo ad utilizzare tutti, sarebbe un peccato, no? Perché andare a spendere molto di più quando appunto abbiamo la possibilità di risparmiare. Quindi ho voluto mettere proprio il pacco, il Lifelong Vitality Pack. E voi vi domanderete, ma come? Ma questi qui sono gli integratori che prendiamo noi? Sì, perché sono formulati per le persone. Ma possiamo anche darli ai nostri cani. In questo caso parliamo solo però di cani. Dopo, quando parleremo di oli essenziali, sarà anche per i gatti, diciamo. Parleremo anche per i gatti. Ma in questo caso solo per i cani. Perché il discorso integratori alimentari o comunque ciò che diamo internamente ai gatti è un po' un discorso delicato. Quindi è meglio evitare. Oppure comunque affidarci al veterinario. Anche in questo caso, anche nel caso di questi integratori, io consiglio comunque di chiedere sempre un parere al veterinario. Soprattutto per il dosaggio. Perché? Perché sono formulati per le persone, è vero, ma si possono sporzionare. Nel senso che ogni singola capsula si può aprire, sono queste capsule vegetali che hanno dentro la polverina, e si possono sporzionare. Una capsula è adatta ad un cane di taglia media e grande. Per i cani più piccoli bisogna andare a sporzionarli, quindi bisogna andare a diminuire la quantità, a dimezzarla. Bisognerebbe utilizzare una bilancia, quelle che utilizzano ad esempio gli orafi, ecco, che misurano al milligrammo. Però ecco, voi andate dal veterinario con la vostra bella confezione, vi fate leggere la composizione, le quantità, in modo che anche lui vi possa dare delle indicazioni. Io, anche questo qui è una cosa che sottolineo tanto, a volte veramente mi sembro molto ripetitiva, però è importante, è importante che non si faccia proprio di testa nostra. Gli animali sono delicati, sono molto più delicati di noi per quanto riguarda gli oli essenziali, l'utilizzo degli oli essenziali. E addirittura il gatto è ancora più delicato del cane. Quindi chiedere sempre consiglio al veterinario non guasta mai. E quindi ecco, diciamo che io vi do delle indicazioni. Ovviamente, come ho detto prima, non è che mi sono svegliata una mattina, ho detto ma sì, proviamo. Queste cose le dico sulla base di studi che ho fatto, quindi anche di conferme date da veterinari. Quindi, questo Lifelong Vitality Pack è composto da questi tre integratori. Abbiamo il complesso Omega. Come vedete, io qui vi ho messo, come c'è scritto anche in questa slide, vegan. C'è anche la possibilità di acquistarlo non vegan. Cioè, il complesso Omega è derivato di derivazione animale, quindi dall'olio di pesce, se non sbaglio. Io ho scelto quello vegan per il mio stile di vita, che è vegano, però ovviamente ognuno poi fa quello che crede. ma ho approfondito un po' anche qui i miei studi e ho appurato che comunque l'Omega vegetale viene assorbito meglio dall'organismo rispetto all'Omega di derivazione animale. Quindi, ecco, è per quello che vi ho voluto mettere questo qui, quello vegetale. L'Omega lo possiamo dare tutti i giorni. Il complesso Omega lo possiamo dare al nostro cane tutti i giorni, una volta al giorno. Ha un'azione antinfiammatoria generale, aiuta a sostenere le articolazioni sane, il sistema cardiovascolare, la funzione immunitaria è mantenere il cervello in salute. Contiene, oltre a oli essenziali antiossidanti come timo, chiodi di garofano, incenso, zenzero e arancio, anche astaxantina, spero di averlo detto giusto, che è uno dei più potenti carotenoidi antiossidanti, che protegge il cervello dalla generazione. Quindi, è un'integrazione importante. E oltre a questo, se non sbaglio, mi sembra che contiene anche la vitamina E e la vitamina D. Credo che sia così, Cri, giusto? Correggimi, perfetto. Un altro integratore che possiamo dare tutti i giorni al nostro cane è il complesso delle vitamine, quello che vedete alla vostra sinistra. Il microplex è un insieme di vitamine essenziali, vitamina A, vitamina C, vitamina E, e complesso vitaminico B, e minerali e chelati, quali zinco, calcio e magnesio. Anche questo è importante, perché? Perché, come vi ho accennato prima, la maggior parte delle volte, queste vitamine, questi minerali, non riusciamo ad assumerli tramite l'alimentazione. Anche se è un'alimentazione casalinga e abbastanza equilibrata e sana. Quindi anche il complesso vitaminico lo possiamo dare una volta al giorno, sempre. Per quanto invece riguarda l'alfa CRS, protegge le cellule dai radicali liberi, contiene potenti polifenoli, cioè agenti antiossidanti. In questo caso è consigliato darlo a cicli, quindi un paio di volte all'anno, ad esempio, non so, ogni sei mesi, lo possiamo dare per un mese, quindi sempre una compressa, compressa se è un cane di taglia medio-grande, oppure lo andiamo a sporzionare per i cani più piccoli. Ovviamente conviene sempre aprirli e versare la polverina nel cibo, perché è difficile comunque dare a un cane anche di taglia grande una capsula. Quindi ecco, il consiglio è quello, abbiamo la comodità di poterli aprire. Quindi questa qui è la confezione che vi ho fatto vedere, appunto questa confezione, che poi utilizziamo anche noi. Anzi, ci sono dei video bellissimi di Cri, sul suo profilo Instagram, scusate, di YouTube, giusto sul canale YouTube, che proprio Cristina ci parla, dall'A alla Z di questi integratori. Quindi andateli a vedere, perché sono veramente interessanti, ma poi sono degli integratori che supportano il benessere a 360 gradi, sia nostro che dei nostri cani in questo caso. Sempre per quanto riguarda gli integratori alimentari, per chiudere il discorso, abbiamo la pulizia. C'è quegli integratori che ci servono per pulire l'organismo, che sono gli stessi sempre che utilizziamo noi. Abbiamo il GX Assist, che è la combinazione di oli essenziali che aiutano a pulire l'apparato digerente. origano, melaleuca, limone, lemongrass, menta e timo. Quando nomino la menta è sempre inteso la menta piperita. E sono questa combinazione con acido caprilico, che è un potente antinicotico. questo glielo possiamo far assumere al nostro cane ai cambi di stagione, solo per dieci giorni. Quindi gli facciamo questa pulizia di dieci giorni, dopo di che passiamo al PB Assist per altri venti giorni. quindi facciamo un ciclo di trenta giorni. Dieci giorni con il GX e venti giorni con il PB Assist, perché andiamo a ripopolare la flora intestinale. Quindi è una combinazione di fermenti lattici vivi, fibre prebiotiche e 6 ceppi di probiotici per appunto il ripopolamento della flora intestinale. Per quanto riguarda l'omega e il PB, c'è anche la versione formulata per i bambini. Però nel caso dell'omega possiamo tranquillamente darglielo ai nostri cani. Non è sotto forma di capsule, ma è sotto forma di circo. Sì, è liquido. Il giusto, perfetto. E l'omega per i bambini ai nostri cani si può dare tranquillamente. Nel caso del PB Assist invece no, perché contiene lo xilitolo. L'oxilitolo assolutamente non può essere assunto dagli animali. infine concludiamo questa integrazione alimentare con il Terrazyme. Il Terrazyme che appunto completa la pulizia migliorando gli effetti ottenuti da questa pulizia, ma che è consigliato prenderlo comunque sempre, magari la sera. Quindi durante il giorno gli diamo gli omega, le vitamine, la sera gli diamo il Terrazyme, che è un complesso di dieci enzimi digestivi attivi combinati con gli essenziali di menta e perita e zenzero che promuovono una sana digestione e un buon metabolismo. Quindi glieli possiamo dare tranquillamente tutti i giorni. quindi questo era per quanto riguarda l'integrazione naturale. Dato che li utilizziamo noi, quindi ce li abbiamo in casa per noi, già che ci siamo diamogli anche agli animali che fanno bene anche a loro, diamogli anche al nostro cane. Però ecco, come dicevo prima, magari confrontatevi sempre con il vostro veterinario. Per quanto riguarda invece l'integrazione con gli oli essenziali, quindi quegli oli essenziali che andiamo ad utilizzare tutti i giorni, non solo all'occorrenza, quando ce n'è necessità, ma proprio questi oli essenziali supportano il benessere generale dei nostri animali. In questo caso parliamo anche dei gatti. Come vedete c'è il copaiba. Io sono una forte sostenitrice di quest'olio perché secondo me, e io ve lo consiglio, bisogna averlo in casa. Assolutamente non può mancare. Oltretutto, per i nuovi iscritti c'è anche una bellissima promozione in questo periodo e dopo Cristina, alla fine della Zoom, ce ne parlerà. Quindi si può ottenere gratuitamente per i nuovi iscritti. Fortunelli. Perché è comunque un oli essenziale importante, ma anche a livello economico, insomma. Quindi averlo in regalo, ogni tanto do terra ce lo regala, devo dire la verità, e ci fa veramente un gran regalo donandocelo. Perché il copaiba è, secondo me, indispensabile? Allora, sul copaiba possiamo veramente parlare ore. Anche qui, come ho detto l'altra volta, c'è un bellissimo video sul canale YouTube di Cristina che potete andare a vedere. E io, insomma, vi invito sempre a guardarlo. Perché? Perché il copaiba, insieme all'incenso, è tra gli oli più utilizzati nel mondo animale. Ma non solo, anche per noi. È versatile, delicato, è quasi in odore e in sapore, e quindi ben tollerato. Ha un effetto terapeutico su molti sistemi dell'organismo, compreso quello nervoso, promuovendo effetti sia neuroprotettivi che calmanti. Supporta quindi la salute del sistema cardiovascolare, immunitario, digestivo, urinario, respiratorio, musco scheletrico, tegumentario e appunto nervoso. Cioè, praticamente, è un olio dalle veramente mille proprietà e ecco, io ce l'ho qui, assolutamente, il copaiba non manca mai. È sempre indicato in un trattamento terapeutico poiché l'infiammazione è una componente di qualsiasi malattia. Lo stato infiammatorio è alla base di tutte le malattie, praticamente. Può essere quindi somministrato contemporaneamente ai FANS, che sono i farmaci antifiammatori non steroidei, cioè i farmaci che prendiamo noi per abbassare la febbre, per i dolori, per il mal di testa, quindi gli antidolorifici, gli antipiretici, gli antifiammatori, eccetera, eccetera. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che possono essere presi contemporaneamente perché aiutano l'animale durante un trattamento terapeutico farmacologico. quando il nostro animale ha una problematica e ha bisogno dei farmaci, ovviamente glieli dobbiamo dare. Quindi non possiamo decidere noi se darglieli o non darglieli. qui entra sempre in gioco il medico, il veterinario. Però lo possiamo aiutare dandogli il copaiba, perché essendo uno tra i più potenti antinfiammatori, possiamo man mano che vediamo dei miglioramenti durante questo trattamento, diminuire l'assunzione del farmaco, quindi del FANS, per lasciare solo l'assunzione del copaiba, fino ad eliminare completamente l'assunzione del farmaco. Quindi è molto, molto, molto importante. Oltretutto, diciamo, è legato anche al mondo animale, oggi parliamo appunto dei cani e dei gatti, degli animali, perché? Perché anche l'altra volta Cristina ha accennato a questa cosa, però è sempre carino dirlo. Le proprietà del copaiba sono state scoperte proprio grazie agli animali, perché si è osservato appunto l'atteggiamento che gli animali avevano verso l'albero di Copaifera, che è appunto l'albero da dove viene estratto l'olio essenziale di copaiba, nella foresta amazzonica. Si è visto che questi animali erano proprio attratti dalla corteccia di quest'albero e trovavano beneficio proprio nello strusciarsi contro, si può dire strusciare, sì, nello strusciarsi contro. Soprattutto in presenza di ferite, perché il copaiba si è scoperto che ha anche delle forti proprietà cicatrizzanti. Quindi è carina questa cosa, no? Stiamo parlando di animali e sapere che il copaiba è stato scoperto grazie agli animali. Ma perché questo? Perché gli animali hanno un'innata capacità di autocurarsi. Cioè, loro sono in grado di ricercare in natura quello di cui hanno bisogno per stare bene, per stare meglio, per guarire. E quindi possiamo dire che dagli animali abbiamo solo che da imparare. come vedete sotto, poi vi ho segnalato anche il copaiba insieme all'incenso. L'incenso è un altro olio essenziale che a mio avviso non deve mai mancare. Anche l'incenso è versatile, ha tantissime proprietà ed è ben tollerato perché è un olio delicato. addirittura l'incenso è forse tra quegli oli diciamo che possiamo dare se non l'unico tra i pochi che possiamo dare addirittura puro ai nostri animali. E una goccia di copaiba e una goccia di incenso mi sono dimenticata la goccina in mezzo però avete capito uno e uno dato tutti i giorni ai nostri animali ma anche a noi perché comunque i benefici sono anche per noi sono gli stessi promuove la salute cellulare quindi una goccia è una goccia si può creare magari possiamo crearci magari una miscela di uguale quantità copaiba e incenso e dargliene una goccia ai nostri ai nostri animali. Anche i gatti possiamo darglielo internamente però con il sistema dello stuzzicadente stuzzicadenti se qualcuno di voi non lo conosce io ho lo stuzzicadenti qua la boccettina basta praticamente inserire nel qui nel buchino del contagocce lo stuzzicadenti che si imbeve di olio essenziale e lo andiamo a mettere nella ciotola nella ciotola del cibo in questo modo riusciamo a dare anche il copaiba e l'incenso per via interna ai nostri gatti per quanto riguarda invece i cani che lo possiamo dare tranquillamente gli possiamo mettere la goccina nel cibo le diluizioni in questo caso sono molto basse perché essendo due oli essenziali molto delicati e sicurissimi per gli animali le diluizioni sono molto basse addirittura appunto l'incenso io lo possiamo anche dare dare puro e si è visto anche che anche quantità un po' più elevate rispetto agli altri oli non va bene cioè noi sappiamo che le quantità devono sempre essere molto basse cioè poco e sempre meglio l'incenso anche se se ne si dà qualche goccina in più non succede nulla però sempre gradualmente non iniziamo mai con una quantità la quantità più elevata iniziamo sempre con una quantità bassa la più bassa per poi piano piano magari aumentare Fede già che siamo su questo argomento magari per non tornarci dopo un'altra maniera magari pratica sì per dosare gli oli essenziali in maniera che ci hai consigliato potrebbe essere te lo chiedo quello magari di preparare in un flacone vuoto di olio essenziale magari anche che ne so anche un contenitore di vetro molto piccolo può essere un omogenizzato o qualcosa del genere metterci dentro magari che ne so l'olio d'oliva sì assolutamente assolutamente non stiamo col rischio di far cadere la goccia di olio che sappiamo ci vuole una certa pratica nel senso a volte cade una goccia a volte ne cadono due quindi magari come ci hai consigliato di prepararne già una miscela composta con copaiba e incenso possiamo magari aggiungere che ne so un quantitativo di olio d'oliva e mettere dentro i nostri oli esatto esatto sì perché diciamo che per i cani di taglia grande possiamo anche eventualmente metterglielo puro non c'è nessun problema per quanto riguarda copaiba e incenso eh quando parliamo di altri oli essenziali sempre meglio diluirli però ecco questi due oli sono particolarmente delicati però parliamo di cani di taglia grande ma comunque anche se li diluiamo per i cani di taglia grande va benissimo eh assolutamente quindi sì sì possiamo mettere dell'olio dell'olio d'oliva e la prepariamo così magari possiamo anche mettere che ne so un cucchiaino di olio d'oliva sì 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 certo certo allora eh calcolate che il copaiba più o meno la diluizione eh per un cane di taglia piccola che sono i caniolini più sensibili eh è una parte di olio e tre parti di eh scusa una parte di olio essenziale e tre parti di olio d'oliva quindi su una goccia diciamo di olio essenziale tre gocce di olio d'oliva quindi tanto per farci un'idea sarebbe un venticinque per cento se poi vogliamo usare il conto con le gocce o altro per i cani più grandi ovviamente la diluizione può diminuire assolutamente sì però sono veramente due oli essenziali eh strassicuri anche per i gatti però per i gatti ecco è sempre meglio utilizzare il sistema dello stuzzicadente oppure per i gatti un'altra eh soluzione se magari anche quel poco che mettiamo può dar fastidio nel cibo glielo possiamo mettere sempre diluito con olio vettore quindi magari in questo caso con olio frazionato di cocco che non unge lungo la spina dorsale anche qui però veramente poco le quantità quindi una goccia in una diluizione un pochettino più alta per il gatto e io lo massaggiamo lungo la spina dorsale anche lui tutti i giorni se proprio vediamo che magari non lo accetta nel cibo anche perché poi il gatto eh facendo la sua pulizia quotidiana che si lecca comunque un po' di olio essenziale lo ingerisce sempre quindi anche per quello che quando parliamo di gatti le quantità devono essere veramente minime anche più basse rispetto ai cani grazie grazie a te altri oli essenziali che possiamo utilizzare quotidianamente eh in questo caso in diffusione ehm l'olio essenziale di limone eh tutti i giorni mh negli ambienti della casa perché perché l'olio essenziale di limone è un antibatterico quindi purifica l'aria e riduce la trasmissione delle malattie ripeto che questo fa bene sia a loro che a noi ovviamente e questo per quanto riguarda eh il giorno quindi durante la giornata invece la sera possiamo mettere in diffusione eh due miscele allora io qui ho scelto queste due miscele ma in realtà eh si possono anche mettere utilizzare altre miscele allora diciamo che per eh supportare il sistema respiratorio air è la miscela più adatta perché è proprio la miscela della respirazione mentre per un buon sonno eh perché è importante anche per i nostri animali dormire bene non solo per noi eh in questo caso vabbè ho scelto il balance che è la miscela equilibrante perché a me piace il serenity immagino eh il serenity il serenity è finito però non è disponibile allora ho detto vabbè il serenity questa volta non lo metto però tornerà presto disponibile speriamo se no appunto possiamo mettere il serenity che è la miscela rilassante oppure anche l'adaptive e sappiamo il serenity funziona benissimo benissimo assolutamente proprio forse anche troppo forse anche troppo esatto abbiamo delle testimonianze dove appunto eh il serenity sappiamo che funziona tantissimo funziona benissimo per tranquillizzare i i cani molto molto agitati anche per quelli un po' aggressivi eh per quanto riguarda l'attivisione è importante ehm dire alcune cose allora innanzitutto eh questo l'ho già detto anche nella scorsa zoom però è sempre bene ripeterlo lasciamo sempre la porta aperta in modo che i nostri animali sia cani che gatti hanno la possibilità di cambiare stanza eh perché questo? perché loro hanno un olfatto molto più sviluppato del nostro e e mh percepiscono odori e profumi che magari per noi sono impercettibili magari non li percepiamo loro sì quindi a volte magari un olio essenziale che a noi piace magari a loro no quindi non è bene forzarli ehm anche perché non 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 fa bene non fa bene mh dare ai nostri animali degli oli essenziali che loro rifiutano ehm tant'è che eh quando li mettiamo in diffusione se vediamo degli atteggiamenti di insofferenza nei nostri animali come ad esempio continuano a sternotire scuotono tanto la testa diventano un po' agitati addirittura a volte possono anche vomitare non ci allarmiamo assolutamente però interrompiamo la diffusione magari facciamo areare la stanza e eh cambiamo cambiamo olio cioè non è che non dobbiamo più mettere olio in diffusione assolutamente no cioè possiamo tranquillamente cambiare l'olio essenziale magari con le stesse proprietà o proprietà simili eh ma che sia eh accettato dal nostro animale e poi invece ci sono cani che vanno proprio alla ricerca delle loro miscele esatto sì 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 ad esempio quando mi facevo arrivare gli oli a casa dei miei genitori dove c'è Spritz il cane che vive con i miei genitori lui era un fan della menta piperita cioè se nel pacco c'era la menta piperita lui apriva il pacco trovava la menta e iniziava a rosicchiarla addirittura quindi c'è proprio il tappino della menta tutto con i suoi denti incisi come è interessante questa cosa perché come abbiamo detto prima cioè i cani vanno proprio a ricercare eh quelli mh in questo caso quegli oli essenziali di cui hanno bisogno quindi può essere che magari in quel momento lui avresti bisogno proprio della menta delle proprietà della menta non l'avevo vista secondo quest'ottica poi dopo ho letto anche che la menta viene utilizzata anche per l'addestramento di alcuni cani vero Fede ne sai qualcosa? e no questo ancora non lo so io so che si utilizza molto la lavanda la lavanda tantissimo per per i cani ma più che altro per quei cani molto agitati quindi per i cani ansiosi io avevo letto che mi pare la menta di perita venisse stata proprio nell'addestramento cinofilo sai quei giochi che si fanno ah ok forse per l'attività mentale anche non so in quale si può essere sì sì però è interessante da approfondire questa cosa quindi mi hai dato un buono spunto per il mio prossimo studio bene grazie così poi vi farò sapere sì perché l'ho letto di sfuggire ma adesso non mi ricordo se lo davano proprio come premio perché magari piace non lo so non mi ricordo no no ottimo ottimo quindi questa cosa l'approfondirò grazie e quindi per finire quindi questi erano diciamo quegli oli essenziali appunto che possiamo dare quotidianamente però ripeto io qui ho messo degli oli essenziali che ho scelto perché ce ne sono talmente tanti non potevo ovviamente indicarveli tutti però li si possono sostituire con oli essenziali appunto dalle che hanno le stesse proprietà e che vengono accettati dai nostri animali quindi per concludere questa integrazione quotidiana vi ho voluto mettere un paio di ricette e come vedete miscele per tutti i giorni dottoressa Pucitta che è un medico veterinario che utilizza che utilizza gli oli essenziali quindi queste ricettine le ho prese da lei e e io le utilizzo tutti i giorni la lozione pulisci pelo per il cane per il gatto e che si può utilizzare ovviamente su tutto il corpo su tutto il mantello ma anche sotto i piedini perché è una diluizione tale da poter essere utilizzata anche sotto i piedini perché dico questo perché è sempre meglio evitare l'utilizzo degli oli essenziali sotto i piedini dove ci sono i colpastrelli perché ci sono le ghiandole sudoripere che sono molto delicate e quindi si possono facilmente infiammare quindi li andiamo ad utilizzare gli oli essenziali in caso proprio di necessità se c'è una problematica localizzata lì sì se no è meglio evitare in questo caso questa lozione la possiamo utilizzare ed è costituita da 240 ml di acqua distillata che metteremo in una bottiglia di vetro scuro con questi questi oli essenziali e queste queste quantità ogni volta che li andiamo ad utilizzare agitiamo sempre la bottiglia perché sappiamo che gli oli essenziali non si miscelano in acqua e io per comodità utilizzo dei panni di cotone ho preso delle vecchie asciugamani le ho tagliate ci ho fatto dei dei rettangoli spruzzo questa lozione su questi panni e vado a pulire i miei cani e lo utilizzo tutti i giorni e rientro dalla passeggiata quindi per quelle due tre volte al giorno si può anche spruzzare direttamente sul sul mantello del dell'animale stando attenti ovviamente agli occhi però io mi trovo meglio facendolo in questa maniera quindi sul sul panno che poi lavo e riutilizzo e quindi oltre a pulire questa questa miscela promuove anche un pelo sano perché appunto mantiene il pelo del nostro del nostro animale pulito lucido promuove una cute sana e oltretutto sono oli essenziali anche repellenti quindi ci aiutano anche in caso appunto a tenere lontani gli insetti hanno tutte proprietà antiparassitarie questi oli essenziali l'altra ricetta è il collare antiparassitario il collarino quello che facciamo indossare al nostro al nostro animale in genere è di nylon e lo immergiamo in 120 m di acqua distillata in una ciotolina che non sia di plastica quindi può essere una ciotolina in ceramica una ciotolina in vetro aggiungiamo dieci gocce di citronella dieci di lavanda e dieci di eucalipto possiamo anche utilizzare altri oli essenziali se non avete questi in casa quindi l'importante è che siano oli essenziali antiparassitari ad esempio non avete la lavanda potete usare il geranio non avete l'eucalipto potete usare l'eucalipto limone o il rosmarino quello insomma in base a quello che avete in casa lasciamo il collare 20 minuti immerso nel in questa soluzione dopodiché lo lasciamo asciugare naturalmente quindi non sotto fonti di calore quindi niente sole niente phon io lo metto sopra una sedia e lo lascio asciugare lì naturalmente e dopodiché lo facciamo indossare al nostro animale e dopo una decina di giorni ripetiamo l'operazione questo ve l'ho voluto segnalare questa ricetta ve l'ho voluta segnalare perché perché a parte che è una ricetta è un diciamo il collare antiparassitario lo utilizziamo sempre tutti i giorni perché è questo perché è importante che l'antiparassitario venga utilizzato sempre cioè tutto l'anno non solo nel periodo estivo dove la carica antiparassitaria è più alta ma anche d'inverno l'antiparassitario va sempre messo in questo in questo caso possiamo andare a diciamo diminuire l'utilizzo dei classici antiparassitari che troviamo in commercio perché diminuire e non eliminare perché quando la carica parassitaria è molto alta ad esempio in estate che ci sono anche tante zanzare è sempre meglio utilizzare anche il classico antiparassitario questo qui va a rafforzare l'altro antiparassitario perché è pericoloso cioè questi parassiti sono pericolosissimi per i nostri animali e quindi un collare naturale potrebbe non essere sufficiente quando la carica parassitaria è troppo alta però facendo in questa maniera si va a diminuire tanto l'utilizzo degli altri antiparassitari che hanno magari tutte queste sostanze chimiche io ad esempio utilizzo nel periodo invernale questo naturale quindi più o meno da novembre a maggio da maggio in poi li utilizzo tutte e due e e quindi questo insomma così abbiamo chiuso un po' il il cerchio dei dell'integrazione naturale per i nostri animali quindi abbiamo parlato di integratori alimentari abbiamo parlato dell'integrazione con gli oli essenziali e anche queste ricette che si possono utilizzare tutti i giorni ah ecco un'altra cosa l'ultima cosa che vi volevo dire questa ricetta del collare la possiamo anche utilizzare nelle bottigliette spray quindi sempre boccettine spray di vetro scuro la stessa ricetta da portare magari sempre con noi soprattutto quando in estate portiamo i nostri animali i nostri cani in al parco oppure i gatti che vivono all'aperto ogni tanto possiamo spruzzare anche la miscela per aumentarne l'effetto rinforzare l'effetto dell'antiparassitario io lo porto sempre con me in borsetta una boccettina piccola ed è molto molto comoda anche quando i miei cani stanno in giardino in estate loro amano stare fuori in giardino all'aria aperta ci sono tanti zanzari io addirittura proprio per aria spruzzo questa miscela e dopo un po' vedo che le zanzari spariscono quindi è bravo possiamo indossarla anche noi la stessa miscela sì sì assolutamente certo assolutamente fa bene anche a noi come antizzanzare per repellerle un pochino esatto esatto mi ha colpito vedere come ad esempio ci sono molti oli essenziali molti integratori che usiamo anche noi sì cioè tutti usiamo anche noi cioè tu ci hai consigliato stasera di poter utilizzare tranquillamente il lifelong il terrazyme anche per i nostri amici a quattro zampe questa cosa non me l'aspettavo avevo visto su internet ad esempio esperienze anche magari delle nostre clienti con ad esempio il deep blue polyphenol complex quindi l'integratore per il benessere articolare muscolare utilizzato su cani doloranti addirittura una capsula proprio messa nella ciotola ottimo risultato tu anche con white hai iniziato a sperimentare più avanti da quando hai conosciuto gli oli essenziali cioè hai avuto un po' di tempo per prendere dimestichezza con questo strumento e poi mi ricordo che anche tu mi dicevi che usavi degli oli proprio nella ciotola di white per i tuoi dolori però sì io a white do tutti i giorni ormai sarà da forse più di un anno credo il copaiba nella ciotola e ultimamente ho aggiunto anche l'incenso proprio perché ho fatto questo studio e ho visto che insieme all'incenso supporta la salute delle cellule quindi io adesso gli metto una goccia di incenso e una goccia di copaiba nella ciotola e a lui è sempre piaciuto hai visto dei cambiamenti ma lui sta benissimo sta in forma pur avendo la sua problematica perché è disabile e quindi ha problemi alle articolazioni ai muscoli sta in formissima ha già più di otto anni e la mia paura era proprio quella che col passare degli anni potesse peggiorare e siamo arrivate a otto anni e veramente è una forza della natura bello sì sì poi ho sperimentato anche il copaiba quando ho avuto un problema al collo proprio perché lui fa dei movimenti strani non ricordo e quindi mi ha assaggiato il copaiba sul collo dove era dolorante ma proprio piangeva io la prima volta che ho sentito White lamentarsi così tanto dal dolore pur avendo tutti i suoi problemi ferite varie e tant'è che mi sono anche spaventata con il copaiba in poco più di 24 ore è sparito tutto 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 quindi non sono neanche più andata dal veterinario perché lo volevo portare dal veterinario perché effettivamente mi sono spaventata proprio come se si lamentasse ma con dei proprio dei dei lamenti dei lamenti ma molto forti non si riusciva neanche ad alzare poi vederlo così insomma già ha il problema alle zampine e la prima cosa che mi è venuta in mente ho detto io ci provo almeno gli allevio un po' il dolore nel frattempo che lo porto dalla veterinaria perché era era domenica la veterinaria non c'era e oltretutto chiamata il giorno dopo e anche il giorno dopo non c'era perché non mi ricordo se era impegnato con delle operazioni o quel giorno era a casa con la febbre col covid ora non ricordo e e quindi ho iniziato ad utilizzare il copaiba e ma già subito dopo qualche ora ho notato il miglioramento è stata una cosa incredibile questo ci fa capire anche perché riesci ogni volta a trasmettere la tua passione per gli essenziali perché immagino che vedendo ogni giorno magari il benessere il miglioramento di white capisco che dona tanto in termini proprio di gratitudine quindi anche questo si percepisce dalle tue classi quindi grazie fede grazie grazie a te ma infatti io è per questo che vorrei proprio far trasmettere questa cosa perché li possiamo aiutare tanto possiamo aiutare veramente tanto 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 sia quando hanno una problematica meno importante come magari un semplice mal di pancia uno tite l'altra volta appunto non mi ricordo chi ha chiesto Silvia forse nella chat di telegram ha chiesto appunto per la sua cagnetta per l'otite e giorno dopo mi ha detto ho già visto un miglioramento perché è così cioè anche la problematica dalla problematica più piccola quella più grande noi con gli oli essenziali possiamo veramente aiutarli tanto 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 e non solo quando c'è la problematica ma anche a prevenire quindi anche dando questi oli essenziali tutti i giorni riusciamo a prevenire è veramente importante e ad esempio un altro un altro olio prima parlavamo dell'incenso anche l'incenso viene dato anche agli animali oncologici che hanno il cancro e li aiuta tantissimo e parliamo comunque di onero essenziale ma perché perché sono i rimedi naturali sono quei rimedi che esistono da sempre prima ancora che non c'erano i farmaci cioè gli animali ma come si curavano prima dei farmaci e pure si curavano noi come ci curavamo prima dei farmaci pure ci curavamo poi che non possiamo utilizzare la parola cura dobbiamo stare attenti però ci aiutano a prenderci cura ci aiutano a prenderci cura perfetto non abbiamo un termine italiano esatto e poi di passare la parola a Pasqualina capisco la mano alzata è anche bello notare come ad esempio non è che noi quando siamo gli oli essenziali tu Fede ti metti a spiegare a White il perché gli stai dando il copaiba e i benefici che otterrà quindi vedere come questi lavorino sugli animali ci fa anche capire quanto ci sia veramente poco di quello che viene definito effetto placebo molte persone scetti che si avvicinano gli oli dicono sì ok faranno bene perché è un condizionamento mentale però ecco è difficile che un cane o un gatto possa avere il condizionamento mentale e convincersi che il copaiba li stia facendo bene quindi è la prova che di fatto c'è poco per quello che riguarda l'effetto placebo ma che sia proprio la chimica la purezza la sinergia degli oli poi come specificato tu a volte se abbiamo già usato degli oli non abbiamo visto un risultato efficace o perché magari non abbiamo individuato l'orocolletto magari perché la qualità di quell'olio essenziale non era giusta per quel trattamento oppure scusa se ti interrompo perché magari l'animale in quel momento non ha bisogno di quell'olio ha bisogno di un altro olio per questo io dico non le forziamo mai a dargli magari se vediamo che magari un olio essenziale non sta funzionando non non incapponiamo inizia ad utilizzare quello oppure al contrario a dire non funzionano un mito proprio tutte le persone che stanno vedendo questa registrazione proprio a provarli perché nei nostri piccoli casi succede proprio di vedere come il cane va dalla ricerca di quello all'essenziale dopo il primo approccio se è quello che fa bene per lui esatto infatti sì 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 assolutamente vai Pasqualina siamo tutte orecchie ciao allora io avevo una domanda perché ho un cane oncologico ho cinque cani di cui uno appunto che ha avuto una spendectomia due mesi fa e purtroppo dall'istologico era era un fibrosarcoma stiamo facendo la chemio a scopo preventivo e per fortuna va tutto bene però lei fa la sua conduce la sua vita normale però ha diciamo tra gli effetti collaterali della chemio nella prima settimana post chemio ha nausea e inappetenza e quindi mi chiedevo come posso aiutarla sotto questo aspetto perché sicuramente anche il fatto che noi umani andiamo a forzarla quando magari è nauseata quindi proviamo diciamo tremila ricette proprio per per invogliarla quindi ho paura anche poi che ci sia anche un aspetto psicologico che diciamo mentale che sia pesante quindi volevo chiederti Federica cosa mi consigli di che piano mi consigli di attuare in questo in questo caso ecco anche prevenire non so se bisogna fare qualcosa anche prima del giorno della chemio perché ovviamente si va di Plasil in questo caso per diminuire il più possibile però se posso contribuire in qualche modo ecco come dicevo prima sicuramente l'olio essenziale di incenso è un olio utilissimo in questi casi quindi aiuta proprio a supportare l'organismo dell'animale appunto dell'animale oncologico anche ad esempio il CRS giusto CRS sì che dicevo prima l'integratore alimentare che possiamo dare i nostri cani a cicli viene anche utilizzato per i cani oncologici li aiuta tanto però ecco in quel caso anche lì portare magari la confezione al veterinario e farsi consigliare poi ci sono tanti fili di pensiero perché magari c'è il veterinario che per le cose naturali non è ma devo dire già abbiamo integratori comunque naturali sai ci sono i funghi medicina cinese queste cose qui già diciamo già cicli lo facevo proprio per stimolare il sistema immunitario perché è anche un cane l'esimaniotico quindi cambi stagione sempre dato e infatti sono comunque anni ormai che veramente non prende nemmeno più l'allopurinolo partiva da una titolazione altissima perché comunque l'ho trovata l'andaggia quindi titolazione altissima siamo arrivati dopo i classici cicli che si fanno di cure ad arrivare veramente con la giusta integrazione di zinco con appunto questi questi funghi poi è veramente ad arrivare ad una titolazione bassissima cioè il sistema immunitario veramente ha combattuto è fortissima e ora nonostante questo nonostante appunto la malattia oncologica sembra sembra te tener botta quindi sì diciamo che voglio proporre questa questa aggiunta diciamo ecco sì a livello emotivo come la vedi? a livello emotivo oddio lei è tranquilla sono preoccupata più per gli altri veramente perché forse sentono un pochino l'agitazione un po' di ansia un po' di dispiacere diciamo è stato un fumo in acce sereno infatti vengono tutti comunque monitorati infatti proprio oggi la vetrina mi diceva quando ho portato l'altra a controllo mi ha detto la vedo un po' ansiosa ultimamente non è che sta accusando diciamo questo dispiacere ho detto probabilmente sì infatti io vado con la lavanda nel nel la lavanda quando tornerà il serenity questo famosissimo serenity sì perché è importante anche quello ma non solo per gli altri cagnolini anche per lei sì 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 comunque ovviamente è l'ambiente in cui vive no? più sereno è e meglio sta anche lei quindi infatti è incavolata quando dobbiamo forzata perché fa anche la chemioterapia orale un giorno sì un giorno no la pasticchetta che comunque dobbiamo essere sicurissimi che la ingoi subito e quindi è un pochino cerchiamo di fare il tutto nel in modo diciamo più indolore possibile sì comunque poi eventualmente possiamo anche sentirci un giorno così magari approfondiamo un po' questa questa cosa e vediamo magari ecco se anche per dire l'incenso il CRS anche i dosaggi le cose cerchiamo un attimino di inquadrare meglio un protocollo più adatto a lei ecco grazie grazie mille sicuramente sicuramente qualcosa si può fare anche in questo caso assolutamente sì ok grazie grazie bene non so se ci sono altre domande vediamo comunque vi ricordo per tutte le persone che magari anche stanno vedendo la registrazione su YouTube che Federica è disponibile anche per delle consulenze individuali quindi riporterò all'interno della descrizione di questo video il link per contattare direttamente Federica e poter magari richiedere un'eventuale consulenza lei ovviamente l'avete vista è super gentile disponibile ci mette la passione unica una passione veramente straordinaria e poi anche le storie che lei mi racconta quando tra amiche ci si parla c'è una cosa incredibile ero ferma lì seduta un gatto è venuto addosso cioè proprio sono gli animali ad andare da lei esatto quindi ecco è rimasta colpita addirittura la mia amica perché ha detto è la prima volta che succede questa cosa di questa gattina che non si avvicina a nessuno perché è paurosissima e proprio se cerchi di avvicinarti scappa niente me la sono ritrovata proprio sulle mie gambe si è proprio accucciata e si è addormentata è rimasta lì per un'ora e lei così che diceva non ci credo non è la mia gatta che cosa hai fatta alla mia gatta erano stati gli oli ma non credo se non è proprio una questione di feeling è stato bellissimo è stato veramente un momento proprio mi ha toccato perché effettivamente lei ha detto è la prima volta poi molte persone vanno a casa sua perché lei fa un lavoro a contatto con le persone fa degli incontri di meditazione li fa in casa quindi c'è parecchia gente che entra ed esce da casa dice non è mai mai successo è la prima volta in anni anni che ce l'ho che è successo e lei era proprio lì che dormiva a un certo punto ho iniziato anche ad accarezzarla perché mi è venuto distinto ho pensato ma accarezzo ma sicuramente appena la tocco scappa perché magari niente si è fatta accarezzare siamo rimaste lì così è stato bellissimo fantastico grazie infinite Fede per questo tuo approfondimento super interessante come al solito e per accennare brevemente su quella che tu hai detto essere una novità per i nuovi clienti a tempo limitato c'è la possibilità di ottenere degli oli in regalo quindi per il mese di marzo ad esempio se state vedendo questa registrazione mettetevi in contatto con la persona che vi ha condiviso il video che vi spiegherà nella maniera più semplice come poter ottenere questi oli in regalo uno è il wild orange che è un olio calmante rilassante agrumato quindi buonissimo da usare sia a livello aromatico che in cucina per esaltare i sapori per dare un tocco in più ai piatti nel quotidiano il copaiba che Federica ci ha saputo raccontare per le sue proprietà diciamo a 360 gradi quasi su tutti i sistemi del nostro organismo è adaptive essere quella che è la miscela per l'adattamento quindi nei momenti di maggiore stress e sollecitazione possiamo ricorrere a questa miscela per trovare una centratura e una stabilità emotiva per resistere appunto agli stress e in conclusione ci vediamo martedì prossimo per conoscere gli oli essenziali utili per migliorare la qualità del sonno e abbattere lo stress anche martedì prossimo avremo le slide sottotitolate in spagnolo quindi se volete condividere l'invito con persone che conoscono lo spagnolo che stanno in Sud America oppure in Spagna o altrove potete invitarle avranno tra virgolette diciamo i sottotitoli e questo è il nostro prossimo appuntamento ci saranno delle novità ogni volta ce ne sarà qualcuna però vi svelerò come è possibile supportare concretamente la nostra la vostra formazione che diventa anche la nostra formazione con un sistema di donazioni volontarie quindi anche per le persone che magari non fanno parte del nostro team possono comunque supportarci perché comunque tra Zoom altri servizi che usiamo ci sono delle spese che tra virgolette ci accogliamo quindi sappiamo che l'unione fa la forza e adesso tutti possono contribuire alla crescita non solo per gli strumenti che mettiamo a disposizione ma anche per la nostra crescita personale quindi ve ne parlerò martedì prossimo dove parleremo degli oli per la gestione dello stress e per migliorare la qualità del sonno non mi rimane che mandarvi come il solito un abbraccio profumato ci vediamo martedì prossimo e a presto ciao ragazze ciao grazie ciao ragazze grazie a tutti gli auguri auguri grazie 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 ciao grazie fede no grazie grazie a te grazie a tutte grazie a voi ciao grazie buonanotte ciao buonanotte buonanotte grazie a te